Con iPhone 15 Pro e 15 Pro Max finalmente abbiamo la possibilità di girare in Apple Log, ovvero il profilo logaritmico. Il profilo logaritmico permette di sfruttare appieno le capacità del sensore e tutta la sua gamma dinamica e quindi di restituirci la ricchezza di scene dove ci sono molte luci, alte luci e zone in ombra, scene contrastate, cieli luminosi, soggetti illuminati da un sole forte. Bene, grazie al profilo logaritmico possiamo anche gestire molto meglio il color grading, ovvero fare il colore come più ci piace. Dalla versione 18.6 di DaVinci Resolve abbiamo la possibilità di utilizzare l'Apple Log anche nel software celebre di casa Blackmagic. Possiamo utilizzarlo sia facendo gestire a DaVinci Resolve la scienza colore oppure impostarla manualmente. Il profilo logaritmico permette anche di avere più facilmente quel look cinematic, cinematografico che tutti ricercano. Questo perché, fatta la color correction, permette di fare il color grading, ovvero quindi dare una colorazione più personale e ricercata con maggiore facilità rispetto alla registrazione fatta con un profilo che non è logaritmico. Su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, quando registriamo in ProRes, che offre la qualità migliore possibile anche nella resa dei colori e una minor compressione a costo sì di un peso maggiore dei file, possiamo scegliere nella codifica colori tra HDR e Apple Log. Per abilitare la ripresa in log sul nostro iPhone andiamo in impostazioni. Andiamo in fotocamera e selezioniamo format. Abilitiamo la ripresa in ProRes, altrimenti non c'è possibile abilitare poi log. E quindi selezioniamo log. Quando registro video con l'iPhone mi affido all'app di casa Blackmagic, ovvero Blackmagic Camera App. È un'app gratuita, scaricabile gratuitamente, che permette di gestire tutti i parametri della ripresa, a differenza dell'app nativa. Sul canale ho fatto un video tutorial approfondito sull'utilizzo di quest'app che vi invito a guardare. Vi lascio comunque il link in descrizione. Questa è la ripresa tramite la Blackmagic App che permette di avere tutti i parametri sotto controllo. Abbiamo la possibilità di visualizzare già una latta applicata che ci permetterà di vedere sullo schermo come sarà più o meno l'immagine finita. In termini visivi inoltre le riprese fatte con l'app nativa sono poco cinematic perché gridano un po' è stato fatto con uno smartphone, perché abbiamo quella caratteristica che si nota spesso di essere molto satura, oversharping, ovvero molto dettagliata. Quindi utilizzare un profilo logaritmico ci permette di avere una risposta in termini anche di colore e di look molto più, se vogliamo, cinematografica. Questo è un esempio appunto di ripresa con l'app nativa in cui le zone d'ombra e di luce sono abbastanza già equilibrate, c'è poco da fare. C'è uno sharpening abbastanza aggressivo che fa vedere un po' che è una ripresa fatta con il telefonino. Un altro fattore utile nel poter utilizzare il profilo logaritmico e quindi avere dei margini di lavorazione in ambito color grading sicuramente molto più ampi, quella di fare dei match molto più credibili quando lavoriamo con più camere. Se lavoriamo con un iPhone, una Sony, una mirrorless, una qualsiasi camera, possiamo avvicinarci un po' più facilmente a quella che è la resa del colore dell'altra camera. Dalla versione 18.6 di DaVinci Resolve abbiamo la possibilità di utilizzare l'Apple Log. Abbiamo due possibilità, quella di far gestire la scienza colore a DaVinci Resolve oppure farla noi manualmente. Vediamolo insieme. Nel primo caso apriamo Project Settings e andiamo in Color Management. Allora, Color Science DaVinci YRGB. Timeline Color Space. Scegliamo DaVinci Wide Gamut Intermediate. Questo perché praticamente abbiamo la possibilità di gestire uno spazio colore il più ampio possibile. In Output Color Space qui io metto REC 709A, ovvero REC 709A, perché utilizzo un monitor Apple. Oppure potete mettere REC 709 gamma 2.2 o 2.4 a seconda del monitor, di come avete calibrato il vostro monitor per il delivery che dovete fare. Perfetto. Questa è la ripresa fatta con l'app nativa. Colori saturi, dettaglio e over sharpening, ovvero è fin troppo dettagliata. Questa è la ripresa fatta in logaritmico. Bene, che cosa dobbiamo fare? Applichiamo Color Space Transform. Qui da Resolve FX Color. Lo portiamo sul nodo. Ok. Adesso dobbiamo andare ad impostare questi parametri qua. Il primo che andiamo a selezionare è Output Color Space, lo spazio colore di uscita, e sarà REC 709. Output gamma. E qui metterete la calibrazione del monitor in base alla vostra delivery, all'output che dovete fare. REC 709. Input gamma. E qui che andremo a mettere quello che è presente ora in DaVinci Resolve, Apple Log. Per avere i colori però più fedeli, a questo punto dovete selezionare lo spazio dell'Input Color Space, REC 2020, 2020. Perché appunto l'iPhone registra in HLG 2020, 2020. Ora, andiamo ad inserire un nodo seriale prima del Color Space Transform e su questo andremo a fare la nostra colorazione. Quindi, per esempio, andiamo ad aumentare la saturazione, un pochino la saturazione. Oppure andiamo a lavorare un pochino sul contrasto, col contrasto e col PV. Perfetto. Volendo possiamo anche lavorare un pochino con le curve. Se vogliamo chiudere un pochino di più i neri, aprire un po' di più le luci. Oppure, se vogliamo aprire un pochino ancora le zone in ombra. E così possiamo fare tutti gli aggiustamenti che vogliamo. Se invece vogliamo utilizzare l'altro metodo di far fare la gestione della Color Science a DaVinci Resolve, che cosa dobbiamo fare? Allora, intanto impostiamo DaVinci YRGB Color Manage. Qui, Automatic Color Management. Qui, in questo caso, non è SDR, ma HDR. Naturalmente l'output Color Space di uscita sarà REC 709 in SDR. A meno che, appunto, non vogliate uscire con un contenuto da pubblicare in HDR. Perfetto. Bene, siamo nella pagina Color. Questa è quella dell'app nativa. Ecco la clip girata in logaritmico. Come dobbiamo fare? Andiamo sulla clip, qui, e dobbiamo impostare l'input Color Space. Apple, Apple Log. Bene, a questo punto, come prima, possiamo fare tutte le nostre modifiche. Vedete i valori che cambiano perché uso il Control Panel della DaVinci. Passo un pizzico le luci, posso far salire appena i medi, le ombre chiudo un pochino e do un po' di color boost. Posso poi applicare uno Sharpen, una maschera di contrasto, e però scegliere io il valore più opportuno. In Final Cut Pro, ovviamente, essendo tutto in casa, la gestione è molto più semplice e veloce. Però, se vogliamo avere il pieno controllo sulla color grading all'interno, appunto, di DaVinci Resolve, abbiamo molti strumenti che non troviamo in Final Cut. Per cui, se vogliamo andare a lavorare di fino, o comunque le nostre esigenze di color grading sono sicuramente più complesse e avanzate, consiglio di utilizzare DaVinci Resolve. Come vedete, su Final Cut, basta applicare in Camera LUT direttamente Apple Log. E poi, eventualmente, fare tutte le... E fare poi tutti gli aggiustamenti del caso. Un'ultima nota riguarda l'utilizzo delle LUT. Log Up Table. Ci sono delle LUT che si trovano in rete, che praticamente permettono il passaggio, la conversione dal profilo logaritmico Apple Log verso lo spazio colore Rec. 709, Rec. 709, quello che normalmente si utilizza. Queste però non sono ufficiali, sono della Apple, ma non sono ancora state rilasciate ufficialmente. Per cui si trovano sulla rete perché qualche sviluppatore, che le ha avute a disposizione per testarle o svilupparle, le ha poi rese accessibili un po' a tutti. Parlo al plurale perché non se ne trova una, ma se ne trovano più di una, due o tre. Io le ho scaricate e le ho utilizzate. Però i risultati non sono consistenti, per cui per me questa è una cosa imprescindibile e quindi al momento non le uso. aspetto poi eventualmente che vengano rilasciate ufficialmente da Apple e a quel punto si possono anche utilizzare. Mi auguro che questo video possa esservi stato utile. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate le notifiche. Non perderete i prossimi contenuti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!